Ma buongiorno ragazzi, mi trovo nuovamente al Gran Premio di Monza Ovviamente non sono come spettatore, non vedrete il circuito, non vedrete l'auto, non sentirete il sound Ovviamente vedete in petturina, sono praticamente uno steward, devo controllare che ne sono scavalchi Vabbè le solite cose le sapete, sicuramente ci sarà qualcuno più grande di me che avrà già fatto questo tipo di lavoro Vi devo specificare sottopagati, non me ne frega un cazzo perché A parte il fatto che sto facendo orari di lavoro massacranti, ma ragazzi cose veramente poco giura da terzo Anzi quarto mondo secondo me, quarto mondo Ma la cosa più bella, ovviamente non ho tempo di fare video, mettermi alla schervania e così così Infatti questo piccolo vlog non ne ho mai fatti, quindi è una cosa improvvisata Telefono basso per l'inquadratura, non vorrei farmi vedere perché in teoria neanche potrei Ok, ma vi stavo dicendo, ieri sono tornato, stanco morto come vi ho detto Alle 22 c'è stato lo showcase di PlayStation 5 Ragazzi hanno mostrato un nuovo gameplay trailer di Gran Turismo 7 Quando io l'ho visto veramente, ve l'ho detto, dopo tutto quell'orario lì di lavoro ero praticamente morto Ma appena l'ho visto sto gameplay trailer di GT7 Sono diventato Hulk praticamente Cioè immaginatevi uno stanco così, mica avete i GT7 e porco di oro Ho scavato una bestemmia, scusate non posso censurare i video veloce E ragazzi cose assurde, i polifoni digital hanno tirato fuori i coglioni Ha tirato veramente fuori i coglioni, ma non sono come quelli che abbiamo noi, no? Perché questi sono d'acciaio, questo sarà il Gran Turismo definitivo Ma io già ve l'avevo detto l'anno scorso E molti mi davano contro, vabbè sti cazzi me ne frega niente Ovviamente aspettatevi un video, ragazzi il prima possibile Ve lo porterò, non ve lo perdete perché andremo ad analizzarlo tutto Frame per frame, ho calcato bene l'erremoscia perché era una parola importante Frame per frame ragazzi, a parte gli scherzi andremo a vedere tutto Tutto quello che questo GT7 in questo gameplay trailer ha mostrato Io l'ho visto e... Scioccato GT definitivo, ricordatevi sta parola GT definitivo E continuo a leggere commenti di persone che purtroppo lo paragonano a Forza Horizon Io adesso veramente mi viene voglia di... Per farvi capire che questo gioco non deve essere confrontato con Forza Horizon Mi viene voglia veramente di prendere a testate questo telefono Gran Turismo non lo puoi confrontare con Forza Horizon, caro il mio coglionazzo Hai capito? Sono giochi diversi, sono giochi diversi Al massimo lo confronti con Forza Motorsport Ma basta con questi commenti, mi sono rotto i coglioni Di vedere è meglio Forza Horizon Non c'entra un cazzo Non c'entra un cazzo Devo guardare qua, sì vabbè non sono abitato a fare vlog Quindi basta, capito? Basta Io come ho detto il prima possibile mi metterò alla postazione Sto facendo turni di lavoro massacranti E non c'è proprio il tempo Ma neanche la forza fisica per mettersi davanti alla webcam E registrare un video Ma il prima possibile uscirà ragazzi Non ve lo perdete Perché hanno mostrato cose assurde Serve una mia opinione Perché su YouTube Italia chi se lo calcola? Gran Turismo Nessuno Prendono tutto il gioco al D1 regalato Si fanno pagare la marchetta Oh ci faccio tre video poi Chi se ne frega? Ma hanno pagato eh Tutto sul conto Poi basta, spariti Nessuno si calcola più Invece no Perché qua avete un giocatore di Gran Turismo Da sempre Praticamente si può dire come se l'avessi sviluppato io Micchè Sti danni li mettiamo Eh ma non dipende da me Comunque ragazzi no dai A parte gli scherzi Chiudo questo video Sta diventando un po' lungo E aspettatevi un video il prima possibile Tante tante cose da vedere Come sempre Vi ringrazio per il supporto Ci vediamo Alla prossima